Lei è la vostra nuova compagna di classe, si chiama Dumitra, è rumena. Accoglietela in amicizia. Vai sederti lì, vicino a Marco. Ciao. E ho saputo che il capo dei bambini, un certo conte Dracula, era un rumeno, quindi tutti i rumeni sono bambini. Dobbiamo stare attenti. Ciao, posso unirmi a voi? Ciao. Ciao. Che fai? Tutti i romani. Guarda, conquistano anche la Romania. Ecco perché il rumeno è simile all'italiano, deriva in tempi dal latino. Infatti, amici, il rumeno si scrive come in italiano. Vatti, non ti vogliamo nella nostra classe. Perché? Perché sei della Romania, sei della Francia e ti accettavate. Perché sei della Francia e mi accettavate? Perché la Francia fa parte dell'Unione Europea. Ma anche la Romania fa parte dell'Unione Europea. È vero. Tu? Aspetta un attimo che ci dobbiamo consultare. Mi sa che ci conviene marginare anche il Francesco. È già. È già. Amici, 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 aiutate. Ho dimondicato la merenda. Dato un po' della vostra. Amici, no! Perché mi dà la donerenda? Perché tra i compagni di classe ci si aiuta. Così questa è la Romania. Bella. Devo proprio smetterla di guardare la televisione. un po' della Bosnia. Un po' di una nuova. Musica del Vigilandri. Grazie a tutti.